Sono 7 i milioni di euro che il comune di Rimini incassa mediamente ogni anno con la tassa di soggiorno applicata a tutte le strutture ricettive. E dal 2018 l'imposta arriva anche da Airbnb grazie ad un accordo entrato in vigore il 1 aprile di quell'anno. In tretrimestri nelle casse comunali sono arrivati 40.000 euro dalla nota piattaforma online. Vero è che rispetto a quanto frutta tale imposta sugli hotele si parla di cifre piccole e l'applicazione della tassa sugli affitti turistici era stata richiesta a gran voce dagli albergatori come segno di equità. Sono quasi mille gli annunci su Airbnb a Rimini cresciuti del 20% in un anno. Secondo le stime degli uffici comunali si tratta di circa 300 strutture tra appartamenti e residence per un volume di canone di locazione di circa 600.000 euro. In media dunque un host, ovvero colui che ospita, ha guadagnato 2.000 euro in un anno. L'imposta di soggiorno su queste soluzioni era il 3% del canone corrisposto nel 2018 ed è salita al 4% nel 2019 con un limite massimo di 5 euro a persona per ogni notte di soggiorno. La quota viene trattenuta direttamente dalla piattaforma online al momento della prenotazione e successivamente viene versata al comune con cadenza trimestrale. Non c'è giro di contanti e tutto è tracciabile, per cui rispetto a quanto avviene per gli hotel l'evasione fiscale è impossibile.